Personalmente sono molto soddisfatto per i risultati positivi che abbiamo ottenuto con il regolamento Omnibus. Il primo è che siamo riusciti ad accelerare la procedura di approvazione per avere il regolamento operativo già del 1 gennaio. E questa è la dimostrazione che quando c'è la volontà politica si può davvero semplificare la burocrazia. Io spero che questo approccio diventi sempre e sempre più frequente. Il secondo risultato positivo è che con il regolamento Omnibus attuiamo una piccola riforma della PAC in corso d'opera. Andiamo a correggere e aggiustare quelle regole che hanno dimostrato di essere lacunose, complesse e non efficienti. Andando così verso il sostegno agli agricoltori, il miglioramento del sistema di produzione agroalimentare e la tutela dell'ambiente. Il terzo risultato positivo è che il quadro normativo è stato migliorato dopo aver ascoltato le critiche e i suggerimenti degli agricoltori europei. Coloro che lo applicano e lo vivono quotidianamente. E questo è importante perché le istituzioni hanno bisogno di ascoltare di più i cittadini e chi opera nel settore specifico. Abbiamo già visto che le decisioni semplicemente calate dall'alto non funzionano. E vogliamo lo stesso approccio condiviso per la definizione della nuova PAC.